La responsabilità Anche noi di Kisboa Ghilendefa Zoi Gaghi ci assumiamo le nostre responsabilità. Il motivo? Perché tutto ciò che facciamo ha delle ripercussioni sulle persone intorno a noi, sull'economia e naturalmente sull'ambiente. Questa è la ragione per cui tale responsabilità è saldamente ancorata nella nostra strategia aziendale. Blue IQ In che modo possiamo proteggere il nostro ambiente e salvaguardare le risorse? Come possiamo creare valore aggiunto dal punto di vista ecologico ed economico? Come possiamo agire e gestire l'impresa con responsabilità? La nostra strategia aziendale Blue IQ indica la via da seguire. È una questione di atteggiamento e di azioni. È una questione di tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo a sviluppare per i nostri clienti tecnologie efficienti sotto il profilo economico e rispettose dell'ambiente. È una questione di responsabilità. Già oggi siamo in grado di produrre in autonomia il 40% del nostro fabbisogno energetico, anche recuperando energia dai nostri banchi prova. Questa attenzione alla sostenibilità è stata premiata con il SIS Eco Award. È una questione di conoscenza. Sapere che ha tutto vantaggio dalle persone e dell'ambiente. Il nostro sistema innovativo SnowSat consente un risparmio di carburante, una riduzione delle ore di esercizio e un'ottimizzazione della produzione di neve, secondo le effettive necessità. Il vantaggio per i nostri clienti è un impiego ottimale della flotta. È una questione di cooperazione. Siamo sempre a vostra disposizione. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Garantiamo soluzioni individuali eccellenti e servizi completi sempre al di sopra delle aspettative. È una questione di training. Ogni anno offriamo corsi di formazione e addestramento a oltre 500 partecipanti provenienti dai comprensori scistici di 16 paesi in quattro lingue. Nella nostra Pro Academy prepariamo i clienti a svolgere i loro compiti al meglio. Il training professionale per una gestione delle piste di sci efficiente, con minor spreco di risorse. È una questione di impegno. È il nostro intento rispondere alle esigenze e aspettative delle nuove generazioni e agire in modo sostenibile. Per questo ci impegniamo nella promozione di nuovi talenti e in progetti ambientali per affrontare il futuro con responsabilità. Ciò significa che ogni singolo prodotto è frutto della nostra responsabilità, a livello economico, ecologico e sociale. Tutti i nostri prodotti, inoltre, sono intelligentemente coordinati tra loro. Proprio in questo sta il grande valore di Blue IQ. Blue IQ. Guardare al futuro con responsabilità.